in questo video sono a rocchetta sant'antonio in provincia di foggia vi voglio far vedere una fontana molto particolare si chiama fontana d'uva e la caratteristica di questa fontana è la portata d'acqua per darvi un'idea per darvi un'idea della portata faccio un confronto con la mia mano e il getto dell'acqua che ogni giorno sgorga dalla fontana ogni giorno per tutti i giorni dell'anno c'è questo flusso d'acqua è una fontana che alcuni anni fa è stata ristrutturata infatti la struttura che vedete questa struttura in cemento armato una volta non c'era qui c'era una fontana con un vascone all'aperto e poi dopo è stata ristrutturata con questa struttura di semplicemente armato forse si poteva fare una struttura diversa magari più conservando la storia i tratti della fontana antica comunque ormai c'è questa struttura che non è molto bella da vedere fontana d'uva si trova in mezzo alla campagna ecco guardate il paesaggio tantissimi litri d'acqua dolce che ogni giorno vengono persi e che invece potrebbero essere recuperati o utilizzati per l'uso civile o agricolo non è molto bella